Buonasera a tutti, come va? Bene, allora io ci terrei subito a fare qualche piccola spiegazione, cioè il motivo per cui mi trovo qui questa sera. Allora io in realtà prima di fare questo lavoro dell'attore, l'attore comico, prima di fare questo lavoro neanche lavoravo, rubavo, rubavo biciclette, poi un giorno ho rubato una ciclette, mi hanno preso e ho deciso di mettere la testa a partito e a pensare, mi sono dedicato ad altro, ho fatto altri mestieri, ho fatto il benzinaio, però devo dire che ho smesso di fare il benzinaio perché tutte le sere che tornavo a casa mi puzzava la punta di benzina e questa cosa mi dava troppo fastidio, allora ho iniziato a fare il pesci vendolo, però anche lì ho smesso perché tutte le sere che tornavo a casa mi puzzava la punta delle dita di pesce con retro gusto di benzina che rimane un po' ristagna nelle pieghette, allora ho lasciato perdere di fare il pesci vendolo e mi sono messo a fare un altro lavoro, ho lavorato nella redazione del TG4, però anche lì ho smesso perché tutte le sere che tornavo a casa mi puzzava la lingua del culo e sta cosa a TG4 mi veniva proprio faticosa da accettare, da scegliere e ho lasciato perdere, ho fatto altri lavori, lavoretti, adesso ricordarsi di tutti, ho fatto il guardiano al museo egizio, praticamente stavo tutto il giorno a guardare i sarcofri, stavo tutto il giorno a guardare le mummie, però anche lì ho smesso perché mia suocera si è trasferita a casa mia, ho detto doppio lavoro non mi sembra il caso, adesso così, ho lasciato perdere, ho iniziato a fare il tipo non so, ho fatto lavori che adesso mi ricordo, ho fatto l'autista, però l'ho smesso perché non riuscivo a ingranare, ho fatto il sarto però ho smesso perché non avevo la stoffa per quel tipo di lavoro, non era proprio, ho fatto, che te posso dire, ho lavorato in una lavanderia, poi mi sono ritirato, ho lavorato come rappresentante di nastro adesivo, poi mi sono scocciato, ho lavorato come assaggiatore di fagioli, poi ho mollato, ho lavorato come porno attore, ma mi sono fatto un culo, ho lavorato all'Ikea, ma tornavo a casa a pezzi, ho lavorato, ho lavorato, ho fatto vari lavori, uno tra tutti era l'addetto al WWF, lavoravo come dipendente del WWF a Roma, WWF via del babbuino e già era proprio pieno WWF e andavo tutti i giorni a lavorare con lo scarabbeo, mi ricordo che una donna con la coda da cavallo che guidava una panda, ha tamponato un'altra donna col vitino da vespa e le zampe da gallina, l'ha tamponata perché andava lenta come una lumaga e questa gli è venuta subito la pelle d'oca, tant'è vero che la macchina si è aperta in due come una cozza, questa è quando è uscita tutta inviperita e ci è voluto poi tra l'altro un coraggio da leone e pure un piede de porco per tirarla fuori dalle lamiere e questa ha detto ma porca vacca, ma che non mai mi sta zoccola, per fortuna che è arrivata la pantera la pantera dei carabinieri e la cazzella della polizia, mancava solo il gatto dei nevi e il lomo ragno poi c'erano tutti e tutti erano, tant'è vero che il verbale dei carabinieri titolava guidavano a cazzo dei cani, ecco devo dire che il WWF ha lasciato in me un ricordo abbastanza profondo, tra tutti i lavori poi ho preferito anche un mio hobby, un mio personale mi piace moltissimo scrivere, scrivere canzoni e così è capitato che mi hanno sentito una canzone piaciuta e mi hanno chiamato a Mediaset e me lo ricordo anche come se fosse oggi il primo giorno che ho lavorato a Mediaset, stavo nel bagno di Mediaset a lavarmi le mani, è entrata Platinette, ho detto mannaggia, poi vedete che ho sbagliato bagno, per fortuna poi mi sono rincuorato, mi sono ripreso perché è entrata la De Filippi e ho detto no questo è il bagno mio, meno male, ci ha avuto un attimo, per fortuna, invece devo dire che questo lavoro mi ha portato a viaggiare tanto, ho fatto tanti giri, tante cose e spesso quando si viaggia e si lavora mi viene un po' di mal di testa, un po' di febbre, io ho risolto con una medicina che praticamente è tipo la tachipirina, però comprende anche l'aspirina dentro, praticamente è una supposta effervescente che tu te la metti e ti ti rasuda la febbre, devi distrarre dal mal di testa, funziona, anche in farmacia ho comprato pure il Viagra per le pippe, no quella è una cosa personale mia, il problema è che mi è accaduto tutto nella vasca delle anguille, mo non mi riescono più a nuotarsi, sono tutte quante, allora ho telefonato a mio nonno e ho detto nonno tu che hai più esperienza di me, dimmi che ne pensi del Viagra, mio nonno mi ha detto beh cosa vuoi, io mi sono sempre trovato bene con la lacca, piano piano eh questa mo se la spiegano piano piano, del resto mio nonno per queste cose è fissato, piano piano piano, ma voglio dire una cosa se no sembra brutto, devo dire che a onor del vero in tutto il mondo esistono due grandi categorie di pubblico, ci sono quelli che capiscono le battute e quelli che invece non le capiscono, tutte le altre sono sotto categorie, sono quelli che fanno finta d'averla capita, quelli che fanno ah, che ha detto niente è una cazzata, poi sono quelli che la capiscono prima di te e te la vogliono spiegare, ah vieni qua quando ne capisci, vieni, poi sono quelli che per orgoglio non se la vogliono far spiegare, no mi frega niente, la prossima volta torno sta più attento, adesso, poi sono quelli che invece la vogliono spiegare a quelli che fanno finta d'averla capita, vieni qua, no ma io ho capito anzi, faccio un esempio, se no non si capisce, siamo partiti per la settimana bianca, io ero l'unico che si era portato gli sci, appena siamo arrivati mi hanno detto oh, ah sci munito, è inutile dire che una delle mie passioni è scrivere, scrivere i gialli per questo ho aperto un negozio di tatuaggi a Chinatown, e vabbè, in realtà potrei avvalorare quello che sto appena dicendo facendo una dimostrazione mimica, reale, ovvero vi farò adesso la faccia di quelli che hanno capito la battuta, ve la faccio a rallenti, così si può individuare meglio la categoria, vi farò la faccia di chi ha capito la battuta, solo che a rallenti, si può esattamente guardare nel monitor per capire bene come è fatta la faccia e riconoscere quelli che hanno capito la battuta, chi ha capito la battuta a rallenti, fa così. Poi c'è l'altra categoria che corrisponde a un'altra faccia, che è la faccia di quelli che invece non hanno capito la battuta e vi farò questa faccia sempre a rallenti, quindi chi non ha capito la battuta a rallenti. C'è da dire che quando la prima categoria è maggiore della seconda, è una bella serata, ci si diverte, quando invece la seconda categoria è maggiore della prima, è una serata un po' più, è una serata tipo, possiamo andare a chiamare i genitori di questi bambini e fargli capire la differenza che c'è tra fili normali e fili in cui passa la corrente? Perché loro non lo capiscono giustamente, magari un genitore, va bene? Frega un cazzo pure a voi giustamente, so, figli volte, figli e cazzo volte. Bene, benissimo, va bene, insomma i genitori ci sono avvisati per varie cose, se no ne lo facciamo vedere, ne scopriamo uno e lo mettiamo nel culo del padre o della madre per far capire la differenza che c'è tra 220, 380 e le varie fonti di litiga. Comunque, va bene, ecco, dicevo, io proverò a fare il mio malgrado, ancora lo spettacolo purtroppo avrà delle battute tipo questa, un amico mio sardo della Sardegna che ha detto che tutte le volte che mi ha sempre detto, io ho dato, io tutte le volte che voglio conquistare una donna, mi vesto da Tarzan, perché ho letto da qualche parte Tarzan è il Citta. Aiutate quelli in difficoltà, aiutateli, aiutate il vostro vicino, spiegatelo a chi non l'ha capito e ricordatevi, le battute so come le canne, se non le passi ridi da solo. Lo dico per il bene proprio della serata, capito? Va bene, allora, ecco, la cosa da dire adesso è questa, vi voglio spiegare questa piccola cosa, io a marzo ho fatto un cd che è uscito in vendita in tutte le librerie che si chiama, si intitola Tre Quarti della Palazzina Tua. Questo cd con grande sorpresa ha venduto tanto, quasi 25.000 copie in tre mesi, insomma per me è stata una bella soddisfazione, se non che alla fine mi hanno proposto quello che propongono ai cantanti che vendono i dischi, ho detto perché non fare un tour del disco dove canti le canzoni del disco, ho detto ben volentieri e mi hanno messo in piedi tutta questa situazione, ovvero il ring, il palco, le casse, i musicisti, il service e le cose. Quando era tutto pronto io ho riflettuto, ho detto scusate ma in realtà io non sono un cantante da concerto e poi è vero pure che il pubblico che viene a vedere gli spettacoli non è un pubblico che va di solito ai concerti rock, viene a vedere un comico e loro mi hanno detto e beh cazzo, noi questo ormai abbiamo messo su, ci siamo su affari tuoi, fai quello che devi fare. Ecco, quindi io volevo spiegare questo per farvi capire la situazione, nel senso che io stasera farò un concerto rock facendo di tutto, anche se non sono un cantante, per assomigliare a un cantante rock, cantante di quelli gagliardi, il problema è che il cantante se non c'è il pubblico del concerto rock fa fatica a fare il cantante da concerto rock, quindi vi chiederei se vi va di metterci d'accordo io con voi, dove io mi impegnerò a fare il cantante e voi mi impegnerebbe a fare il classico pubblico da concerto rock, vi va? Allora, mettiamo in chiaro una cosa, il pubblico da concerto rock non risponde sì, il pubblico da concerto rock, il cantante dice yeah, con la mano così, che non è un segnaccio, un gestaccio, ma in linguaggio sordomuto significa love, significa amore, quindi yeah, è un gesto positivo, il cantante dice yeah, il pubblico risponde yeah, ma tutti insieme alzando, quindi è una cosa, facciamo una prova per vedere, per testare se il pubblico è veramente da concerto rock, allora, yeah! Bello, mi piace, bene, allora entriamo però nello specifo, facciamo le cose come si deve, come succede nelle migliori famiglie, allora è necessario firmare un documento che è praticamente il documento che attesta tutte le vostre responsabilità e tutto ciò in cui siete coinvolti, il dodecalogo delle cose che deve fare il pubblico, allora il pubblico si impegna a applaudire e questo è facile, non c'è bisogno di fare prove, aspetta, poi si impegna a cantare in coro e questo è un po' più difficile perché c'è chi si deve sintonizzare quello che parte prima o dopo, a saltellare o ballare, concerto rock sì, chi non sa ballare saltella, così almeno dice io non so ballare però è un po' mi muovo, l'importante è fare la ola o accendere accendini, le cose classiche, o i telefonini, fare le foto, quelle cose che si fanno, poi dovete fare, battere le mani a tempo, pure questo non è facilissimo perché uno parte, l'altro appresso e non sai più chi seguire, ma lì vi aiutiamo noi, vi diamo noi il gesto, il segno e voi ci venite dietro, poi dovete urlare in falsetto, questa è una cosa da femminile, fanno spesso le donne, sai quelle che fanno, non lo so fare, esce proprio quella cosa fastidiosissima che fanno i concerti, perfetto, stessa rottura di cazzo però al momento che vi dico io, al momento che dico io, poi il sette, regola sei, tirare reggiseno col numero di telefono oppure tirare un telefono col numero di reggiseno per noi uguale, basta che se parla ad esisa l'importante è quello, queste sono cose che succedono in tutti i concerti rock, svenire e farsi portare via braccio, questa è una cosa classica, a un certo punto c'è sempre quella che sviene, dopo che ha fatto tutto il tutto la sera e gli altri la portano via, attaccando un po' la chiappa, la cosa, dovete mostrare cartelli, classici cartelli col cuore dato, col cuore love, quelle cose che si fanno ai concerti, vi dovete organizzare, che cazzo volete, mica posso fare, arrivare alla fine senza voce, alla fine dei concerti, chi va a un concerto torna a casa, si riconosce e chi fa dove sei stato, capito, perché è andato a cantare, a ballare, poi alla fine dovete aspettare due ore per un autografo, purtroppo questa è un'altra cosa brutta dei concerti rock, cioè che uno nonostante cosa ha ballato, ha cantato, cioè il cantante aspetta due ore per gli autografi, non so perché si fa così, nel senso che pure io aspetto due ore, io sto dietro la porta così e voi dall'altra parte, tutti e due aspettiamo due ore, fino a che uno delle due non si rompe le palle e dice vabbè facciamolo, capito, è una cosa che bisogna fare da concerto e poi alla fine l'ultima cosa importantissima, vi dovete dimenticare dove avete posteggiato la macchina, classica dei concerti rock, se hai stordito la musica, il volume, le cose, dove è la macchina lì? No, era in fondo, capito? Ecco, è importante, tutte queste regole sono delle regole che vanno sottoscritte e firmate e vanno, come dire, firmate da qualcuno che si prende la responsabilità di questo, qualcuno che rappresenta il pubblico, vediamo, possiamo avere un po' di luce del pubblico, cerchiamo un rappresentante, quel signore mi piace, posso? Quello lì con la riga in mezzo un po' larga, questo, ecco, le dispiace? Come rappresentante del pubblico venire a firmare questo documento? Cioè, con la sua firma si impegna, il pubblico, le do, guardi, il pennarello e la cosa dovrebbe mettere la firma lì sotto, guardi, si appoggi sulla cassa, che in cui si stanno le cose, a meno che non è il padre del bambino e glielo mettiamo, glielo mettiamo a... Grazie, benissimo, grazie il pennarello, grazie, allora, benissimo, allora, il signore come rappresentante del pubblico ha firmato per voi, praticamente il gioco è fatto, voi adesso siete impegnati a fare tutte le cose che stanno scritte nel contratto. Yeah! Anche sopra, fate gli stronzi, eh? Mo' come dico che il signore è. Bene, io mi vado a preparare per far cominciare il concerto, scusate, mi preparo e cominciamo subito. E guardo il mondo da un oblò, mi hanno chiuso dentro la lavatrice, nananana, mangia libri di cibernetica, insalata di matematica, e una cacca strana fa, ma chi è, ma chi è, cazzo ne so, cazzo ne so, va, nanana, ogni tanto mangia un fiore, ma ci ha pisciato un cane pastore, com'è bella la natura, quella sua maglietta fina, nananana, era la figlia del benzinaio, che ci aumenta la benzina, nananana, ce l'ho grigio su, ce l'ho grigio, giù, insomma, ce l'ho grigio. Frena, che mo' entramo nel mare, frena, ha imboccato sul pontile, frena, la macchina di tu padre, frena, che cacchio gli racconti, frena, è una fiesta mica, un peschereccio, frena, t'avevo detto compra da marea, frena, e la macchina, nananana, l'amore con l'amore, Alice guarda i gatti, e i gatti guardano le Alice, nananana, eravamo quattro amici al bar, che volevano cambiare il mondo, una ha vinta al super e nel l'otto, ha cambiato il bar e tutti gli amici, da la la, da 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 la, da, 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 mi tocca fare tutto quanto nella vasca, da quando ci sei tu che occupi la tazza, mi sveglio, mi rilasso, na 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 na, Chicco e Spillo, giocano a pallone, Chicco tira il pallone, Spillo lo prende di testa il pallone e si buca, ora valla a ricomprar, na 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 na, Zidane e Materazzi giocano i mondiali e Materazzi dice a Zidane, po po po, pete tu sorella, e compra un tavolo, ce hanno i sordi, se c'hai li sordi, ce sta l'IKEA, te lo danno a pezzi e lo rimonti a casa, a casa tua, con le istruzioni, con le istruzioni a casa tua, ma le istruzioni, son finlandese, son finlandese, mo sa cazzi tu, e io con la ragazza tua, tu con la ragazza mia, meglio si accendemo la luce, il carrello non si apriva e quell'uomo gridava, terramo corcazzo, e Sara, svegliati sta arrivando mia moglie, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva la bocca sopra ogni cosa, la chiamavano bocca di qua, la chiamavano bocca di là, la chiamavano bocca quando si stanca, mano di rosa, la chiamavano mano di rosa, mano di rosa, collo d'acciaio, la chiamavano, la chiamavano, e Marco me l'ha messo e se n'è andato via, ecco i risultati dell'ecografia, se solo avessi fatto come bocca di rosa, non ci troveremo in questa situazione, na 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 na, e vorrei incontrarti fra cent'anni, chissà quanto puzzerai, na 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 na, certe notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei, certi giorni vai dal concessionario, gli dici, sta macchina fa come cazzo, gli pare, na 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 na, e quando ha letto lei, oh bene, fa piacere fare una canzone con gli scoppietti sotto, giustamente questo è un altro comune, noi i sei body stanno a rosicà, che stiamo venuti tutti qua, in qualche modo, quanto costa un fuoco d'artificio a uno, così fammi conti di quanti soldi stanno a buttare, ma è bella sta cosa, ma quando un sindaco di un altro paese fa fare dispetto a un altro sindaco, eccoci, che devi fare, guarda di là, ma questi non so i fuochi che devono fare dopo lo spettacolo, stanno a fare prove, no, l'ho chiesto agli organizzatori, mi hanno detto, ci abbiamo i fuochi noi dopo, allora io ho detto, vabbè, allora dimmi quando che io finisco lo spettacolo, invece no, no, decidi tu, io ho detto, allora dopo, invece loro stanno proprio a testa, giriamo le casse li manniamo a fanculo? Facciamo, ce la facciamo? Ma così, tanto per, ecco, forse sì, ci hanno pochi finanziamenti, dai, hanno vinto. La canzone si intitola La mia ragazza ed è una canzone che ha avuto, come dire, l'inizio del, insomma, è stata una delle prime canzoni di questo disco, La mia ragazza. Hai gli occhi di tuo padre, i capelli di tuo padre, il naso di tuo padre, le labbra di tuo padre. E a me mi sembra che stacco tu padre. Hai le mani di tuo padre, le braccia di tuo padre, le spalle di tuo padre, le gambe di tuo padre. Io spero che qualcosa sia anche a te e tua madre. Devo dire che quando c'è una relazione bisogna stare molto attenti alle esigenze di coppia. Mi riferisco a tutti quei piccoli accorgimenti che un uomo dovrebbe avere nei confronti della propria donna, della propria partner, quando subentrano quei mesiversari, quegli anniversari o addirittura dei giornalieri, insomma, il momento in cui lei si aspetta un regalino è fondamentale. Tipo, non so, per il suo compleanno lei si aspetta un regalino. Beh, il suo compleanno non mi sembra anche giusto. Poi per il suo onomastico lei si aspetta un regalino. Scusa, che c'entra un onomastico? Ah, un onomastico! Ah, un onomastico non è se fare un... Io non... L'onomastico non ho mai masticato, mo adesso c'è... Non lo sapevo che l'onomastico. Adesso lo sai? Vabbè, adesso lo so e vado a farti il regalino, però se non lo sapevo non me vuoi dà la colpa poi, non lo sapevo che vuoi da me. Va bene, mo te lo faccio il regalino, te l'aspettavi e te lo vado a fare. Aspetta, aspetta, aspetta. Per Ferragosto, lei si aspetta un regalino... Scusa, come è Ferragosto? Ferragosto? Ah, è una festa tra... Perché nel senso innanzitutto devi stare in ferie. Perché chi non... Poi metti che... Non mi vuoi fare il regalino? Mi ne ricorderò! E ti minaccia con la mano. Allora tu dici, no, no, io te lo faccio il regalo, solo che... Lo capisci da sola che mi devo alzare, devo andare in cabina, mi devo rivestire, devo prendere le chiavi della macchina, devo entrare in macchina a Ferragosto a mezzogiorno, entri in macchina, entri con due chiappe, esci con una chiappa sola perché le chiappe si esaldano, fa tanto di quel caldo che c'è un chiappone unico alla fine. Esci fuori e devo andare a cercare un posto che venda dei possibili e potenziali regali per te, a meno che non ti vada bene una pepata di cozze o un cocomero insieme, perché quelli li trovo facilmente, anche Ferragosto chi trova aperto che... Vabbè, ho capito, comunque vado e mo vado a farti il regalino. Per Natale! Lei si aspetta! Un regalino! Beh, è Natale mi sembra giusto per Capodanno! Lei si aspetta! Un regalino! Capodanno! Guarda che chi non regala Capodanno? Poi non... Tutto l'anno! Ho capito, ho capito, vado di corsa prima che chiude i negozi. Per la Befana! Lei si aspetta! Un regalino! Beh, t'ho fatto la calza. Che c'è nella calza? L'arancio. Per fare in modo che la calza venga tutta... Si sa, si mette l'arancio... è una cosa classica l'arancio è fatto per che la ca venga lo sapete io l'arancio l'ho troppo ci ho messo una fanta perfetto però è venuta poi ci ho messo anche dei dei cioccolati delle old cemento victors respira vivident alito fresh and clean golia bianca e nera con l'orso che fa i rutti al sapore di tonno mentolato e squaglie i ghiacci del polo e sei costretti a emigrare in Bangladesh tutti i pinguini vergini che si ritrovano ancora e se con 7 prove d'acquisto puoi adottare una foca monaca che nel frattempo si è convertita e batte sulla tangenziale del ghiaccio in Antartide e fa la comparsa in un film porno del trichego Rocco Siffreddo e me sa tanto che me so dimenticato il regalino e mo te lo vado a fare esco di casa e ti vado a fare scusami se mi so dimenticato il regalino per il 14 febbraio San Valentino la festa degli innamorati le innamorate si aspetta un regalino per l'8 marzo la festa della donna lei è donna e si aspetta un regalino per la festa della mamma lei è mamma e si aspetta un regalino per la festa del papà lei non se ne aspetta ma tu glielo fai lo stesso dove se rompi i coglioni pure quel giorno e si aspetta un' Alla, mia, sinistra vostra a destra, il chitarrista Fabio con i capelli sciolti, alla mia destra, vostra a sinistra, il bassista Maurizio con i capelli sciolti nell'acido. E a proposito di regalino... Ti ho regalato un gatto, tua madre l'ha fatto castrare. Ti ho regalato un cane, tua madre l'ha fatto castrare. Ti ho regalato un pappagallo che si è messo subito a volare. Ti ho regalato un gatto, tua madre l'ha fatto castrare. Ti ho regalato un gatto, tua madre l'ha fatto castrare. Ti ho regalato un giovane e due donne, ma solo in quest'ultima circostanza scopri il vantaggio di avere un sedere peloso. Noi abbiamo messo insieme le nostre esperienze e abbiamo scritto una canzone che si intitola La prima volta che abbiamo fatto l'amore, dove i ricordi, nonostante sia passato anche del tempo, saltano sicuramente alla mente più di tanti altri che sono successi in maniera più ravvicinata. La prima volta che abbiamo fatto l'amore. La prima volta che abbiamo fatto l'amore non si può dimenticare. Ah, 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 ah. Per esempio, Fabio ha detto alla sua lei. È stato bellissimo, amore. Per esempio, Maurizio ha detto alla sua lei. Fantastico. è per esempio dato addento alla sua lei oh ti giuro mi era mai successo prima sarà stata vi per stamattina a prima volta non mi era mai capitato in tutta a alto giuro su ah 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 l'amore ah 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 l'amore ah o per esempio la sua lei Lei ha detto a Fabio, sei stato grande, per esempio, la sua lei ha detto a Maurizio, quanto sei figo, per esempio, la sua lei ha detto a Tato, Sì, mammo, 50 euro tu mi darei lo stesso perché io mica posso stare a fare come ti pare a te, io sto a lavorare, mica il tuo pagamento... Accendini! Telefonini o what? Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Lavorare! La prima volta per tutti è una giornata molto importante, è una serata molto importante, insomma, è comunque un momento importantissimo, tant'è vero che ci sono persone che decidono di festeggiare questo momento facendo delle compere, alcuni vanno a comprarsi delle mutande nuove, che dico, visto che la prima volta almeno lo impacchetto come si deve, naturalmente ci sono mutande e mutande, esistono... C'è chi vuole festeggiare, chi ha le possibilità, si compra quelle mutande firmate, sai quelle dello stilista, quelle mutande da 85 euro, se le mette, se le indossa, almeno fa bella figura, la prima volta può sforgiare delle mutande importanti. Il problema è che se lei lo vuole fare al buio, perché è timida, poi te lo ha un compromesso perché gli dice... Allora ti conviene dire, vabbè, senti, allora guarda, io accendo la bajur, però sopra ci metto le mutande, così la luce della bajur si infrange nella mutanda e illumina tutto il soffitto con la marca della mutanda stampata, così almeno rientri dello sponsor che... Alcune donne comprono le mutande, ma quando comprono delle mutande nuove si spende di meno perché c'è meno... c'è meno... c'è meno proprio stoff, c'è meno... come si chiama? C'è meno tessuto dentro la mutanda della donna, adesso le fanno proprio che... proprio appena manco dici dov'è, ci rimani male, proprio che dovrebbero dare i sordi a te, dici, guardi, questo è avanzo del rimagazzino, perché li mettono... si chiama Tanga, ho fatto una ricerca su internet, Tanga, mi è uscito fuori dal motore di ricerca, Tanga uguale divisore di scoregge e basta, non... perché serve solo a... poi che le dividi a fare che si riuniscono, voglio dire, non è... però devo dire che la mutanda in quanto tale è un indumento molto importante, questa non costa 80, questa costa un euro, però è una mutanda abbastanza importante e io ho deciso di, come dire, di indossarla... l'indossarla per il prossimo pezzo, perché queste... questo prossimo pezzo l'ho intitolato appunto Mutande. Se prima era una donna a levarsi le mutande, adesso son due donne che si levano le mutande. Se prima era due donne a levarsi le mutande, adesso son tre donne che si levano le mutande. Se prima era tre donne a levarsi le mutande, mi sta venendo un dubbio che ho sbagliato, ho spogliato io. Troppo corta? In realtà... in realtà non è una cosa casuale, ma è proprio voluta, perché tutte le canzoni dell'album sono proprio corte, non durano tanto, è una cosa proprio... è una caratteristica, si chiamano canzoni chihuahua appunto, perché sono corte. Noi abbiamo pure la parte finale che... però non facciamo quasi mai, perché è una parte che... se volete la facciamo però, se volete. Vabbè, facciamo anche quello che facciamo dopo, adesso, vai. Così è tutto e nessuno può dire, però noi non ce l'hanno fatta. Una cosa che succede nei concerti è che il pubblico dei concerti gli piace collezionare dei feticci del cantante. Cioè, farebbero qualunque cosa per avere anche un capello, un brandello, un polsino, una cosa... Io farò molto di più, tirerò le mie mutande, sono autografate, c'è scritto Ciao Dato. E sono fortunatamente senza macchiolina, sai, quella gialla così, è andata a me. Quindi io proverò a tirarle dove capita capita, però voi vi dovete esaltare quando chi la prende fargli bravo, beato te, capito? Tutti dovete provare invidia per chi le prende, capito? E' una cosa importante dei concerti. Io tirerò la mutanda e voi, non lo so dove... Non lo so dove... Capito? Lo dovete invidiare, bravo. Bravo. C'è da dire che la mutanda è il primo indumento che si indossa quando uno si prepara per uscire, ma c'è anche da dire che le preparazioni per uscire sono ben altre. Cioè prima di indossare bisogna lavarsi. E quando un uomo si lava è completamente diverso dal lavaggio di una donna. Tant'è vero che la donna si prepara e si lava solamente facendosi neanche la doccia, ma si fa il bagno. Cioè riempie la vasca da bagno con solo acqua calda. Poi se l'acqua è troppo calda, lei mette il dito per testare se l'acqua è calda, se è troppo calda, aspetta. Sai quante donne sedute sul bidet che aspettano che l'acqua diventa tiepida, è pieno. Poi si rialzano, sentono la temperatura dell'acqua, se è ancora troppo calda, aspetta. Sai quante donne sedute sulla tazza che dopo un po' il bidet te lascia il segno, allora cambi appoggio. Poi quando l'acqua è pronta si immergono completamente e vanno di bagno schiuma. Un bagno schiuma solo per lavarsi. Un bagno schiuma solo per la schiuma. Un bagno schiuma di riserva. Dell'olio, delle sfere profumate che rilasciano degli unguenti che rilassano sale da bagno. Pepe da bagno. Insalata da bagno. E poi shampoo al midollo di bue. Balsamo al presepe. Schiuma all'asinello. Aspetti i remaggi che ti vengono insaponati alla testa. E poi fai con gli altri il bagno schiuma che rinvigorisce. Quello che rinforza. Quello che rispetta il pH. Quello che non lo rispetta. Quello che lo manda direttamente a fare un culo. Perché pure quello va lavato. Non è che lo puoi lasciare da parte così. Quindi ti lavi perfettamente. Quando sei completamente insaponata, risciacquata, insaponata, risciacquata. Esci dalla tasca e hai un asciugamano solo per la pianta dei piedi. Un altro asciugamano per le caviglie. Un altro asciugamano per le ginocchia. E un altro asciugamano molto famoso detto anche asciugamano meccanico. Perché c'è di là la madre con il joystick in salotto e lei dentro il bagno. E deve stare attenta a non far cadere lei stessa dall'asciugamano se no lo perde. Ha un asciugamano per i fianchi, un asciugamano per la vita, un asciugamano per il seno. E quando è completamente coperta da asciugamani usa un accappatoio che ha il cappuccio. Ma preferisce non usarlo perché si appoggia ad un altro asciugamano che passa in maniera attuale che è intorno alla testa. E quando è ricoperta dalla testa ai piedi di asciugamani vai con le creme. Crema contorno mani. Crema per la pelle secca. Crema per la pelle grassa. Crema per la pelle così così. Crema che rinvigorisce. Crema che rigenera. Crema che rinforza il bulbo. Crema che ringiovanisce. Crema che invecchia. Perché se ne usi troppa da quella che rigenisce poi goccioli diventi placenta. E allora tutte queste creme ci hanno un costo. E per questo che quando una donna esce col te dappe scontato che tu le paghi la cena. Perché lei con le creme ha già dato. Sì. È un po' come il buia poker. Ci dovrebbe essere una regola tacita, comune a tutti, che prevede Vabbè io sono uomo e te pago la cena. Tu sei donna se non me la dai mi devi dare le creme. Così almeno io rientro. Mi devi dare le creme. Mi devi dare le creme. Mi devi dare le creme. Guarda che me devi dare le creme. Mi devi dare le creme. Guarda che me devi dare le creme. Secondo esempio. L'uomo completamente diverso nella fattispecie. Ma sostanzialmente uguale per comunque anche lui a lavarsi. Solo se si ricorda dove sta di casa il bagno. Perché l'ultima volta si è entrato uno scappuzzino si è lavato cada scopa. Quando entra nel bagno l'uomo si mette a fare gli onori di casa. Saluta il ragno che ormai ha asfaltato il bidet. Ciao Walter. E si propone verso la vasca dove non farà il bagno ma farà bensì la doccia. L'importante è che l'acqua non sia calda, fredda, tiepida. L'importante è che venga giù. E quando l'acqua scende sei completamente umido e sciacquettato e completamente ricoperto di acqua. Vai con lo shampoo e finito. E allora provi con il bagno schiuma e finito. Ti ricordi che nel 97 te era caduta una saponetta. Sai di quelle che diventano sottili sottili che scusciano come le anguille si vanno a infilare nell'intercapetine che c'è tra il lavandino e la parete del lavandino. Allora che fai? Ti siedi sul lavandino per fare una leva svantaggiosa nei confronti del lavandino e usi un piede de porco che poi è il tuo e cerchi di scardinare il lavandino. E quando togli le maioliche, infili il braccio dentro, te graffi, lo ritiri su, ritrovi la saponetta effettivamente lì dove l'avevi lasciata, la metti contro luce togliendo i calcinacci e la polvere e scopri che c'è un pelo calcificato esattamente dalla parte posteriore. E ti preoccupi non tanto di chi è quel pelo ma soprattutto di dove è quel pelo. te lavi dalla parte positiva del pelo e quando sei completamente insaponato, risciacquato, insaponato, risciacquato, insaponato, risciacquato esci dalla vasca e... esci dovani. Io l'ultimo a cappatoio l'ho usato alle medie ma arrivo qua, sta nella borsa del tennis e giù un cantino insieme ai funghi e ai pedalini per fare i tartufi. Non è il caso manco di risturbarlo, sennò Piero Angela chi lo sente. E adesso ci vorrebbe un'idea, un'intuizione, ma chi me la può dare? Ti scorre in soccorso il ragno che con la zampetta ti indica l'ultimo tassello di cartigenica. E tu lo prendi, te lo passi sul corpo e la cartigenica a contatto con la pelle umida cosa fa? Lo sanno tutti, diventa trasparente. Non lo trovi più. Ci vuole un'altra idea, prendi la parte finale del rotolo di cartigenica, quello marrone, il rotolino, quello praticamente l'anima della cartigenica. Lo prendi, gli metti un dito da una parte e un dito dall'altra e... La cartigenica, il rotolino finale, praticamente inizia a sottiliarsi, diventa sempre più sottile, rilascia sul corpo dei pedigoni marroni che non sono neanche un ben vedere. Però, devo dire che un po' di lavoro lo fa un po', toglie un po' di umidità, ma non basta, non basta. Fino a che sia sottile sempre di più, sempre di più, fino a scomparire definitivamente non lo trovi più. Dici, vabbè, sarà finito, non si sa. E allora che fai? A quel punto ci vuole un'idea, un'altra intuizione. Sei ancora umido. Ti rifai a un grande inventore italiano del Cinquecento, Leonardo da Vinci. Tutti pensano che sia una figura geometrica, quell'uomo di Vitruvio che tutti abbiamo sulla nostra moneta tuttora in vigore in Italia. L'euro. E tutto c'è scritto che c'è un uomo iscritto dentro un quadrato e un cerchio allo stesso tempo. E pensano che quella sia un'intuizione leonardesca di una figura geometrica. No, quello è un'invenzione di Leonardo, è il FON del Cinquecento. Non avendo corrente elettrica, loro dovevano in qualche modo fare evaporare le coccioline dopo che si lavavano, no? E allora quale migliore modo se non agitare, agitare e fare in modo che il vento facesse il suo lavoro. Ma si è reso ben presto conto Leonardo stesso che questo movimento da solo non poteva bastare. E all'uomo di Vitruvio ha unito un'altra invenzione. L'elicottero. Queste due invenzioni messe insieme hanno fatto sì che il vortice d'aria arrivasse e facesse evaporare tutte le coccioline. E quando sei completamente asciutto ti vesti la maleppaggio. Entri dentro la macchina, guardi nello specchietto retrovisore e pensi... No! Ma ci ho dimenticato di lavarmi i denti. Allora dai un mozzi con l'arber magic, lo fai mantecare qua sulle gengive. C'hai un fiato di vino pure se ti chiami Franco ma l'importante è arrivare sotto casa sua. E quando sei completamente sotto casa sua lei non scende perché chissà che stava facendo. Chissà che stava facendo. Che stava facendo? E poi così. Poi così. E poi così. Si spruzza il profumo in parti del corpo che manco pensava di avere. Dietro il lobo d'orecchio, tra le scapole, in mezzo al seno, qua dietro sotto la patatina, la cosa che gira. Quando non sa più dove spruzzare il profumo, fa una cosa che solo alcune donne hanno inventato ed è stupenda. Puntano la bomboletta di profumo verso l'alto, spruzzano il profumo e lei sotto la nube atomica di profumo. So a prendere tutte le radiazioni. E quando è profumatissima e ti viene incontro se vuole avere uscita dalle acque. Tu sembri uno uscito all'autolavaggio. E quando di fronte a una donna bella, stupenda, profumatissima, ti manca la parola. Anche se hai due lauree, non sai com'è proprio Rinova questa benedetta parola. E anche se hai due lauree, se impappiccia la lingua, vai davanti a lei, fai... E per l'imbarazzo inizia a sudare. Ti suda la scella di destra, la scella di sinistra, la scella del ginocchio, che anche quella contribuisce abbastanza. Delle coccioline di sudore. Inizia da percorrere il tiraspirato dorsale. Essendolo giù. Sempre più giù. Sempre più giù. Sempre più giù. E ritrovi il rotolo di carta igienica che a quel punto, voglio dire, non ti serve a granché. Lo metti da parte, vai via. E cerchi un modo per contrastare questo sudore assolutamente sconveniente in quel momento. E con il trucco della contrazione blocchi la scella di destra. Con il trucco della contrazione blocchi il sudore sulla scella di sinistra. Con il trucco della contrazione blocchi il sudore sulla scella del ginocchio. Ma il sudore in maniera subdola si ripresenta in altre parti del corpo che tu non ti aspettavi. Si ripresenta come una corciolina luccicante sotto i lampioni di casa sua. E inizia a descrivere dalla tempia in giù il profilo del tuo volto. Sempre più giù, sempre più giù, sempre più giù. E l'unica soluzione quando stai di fronte a una donna che ti procura imbarazzo e ti fa sudare è una sola. Andare da lei e dirle scusa. Ma c'hai uno spinaccio in mezzo ai denti che non te se può guardare. Uddio no! Lo spinaccio no! Che figura! Chi è? Suda pure te! 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 T advertising! S89! anche dall'odore e così spesso nascono delle coppie, vanno a vivere insieme e spesso capita quando si vive insieme che le coppie iniziano ad avere dei momenti di crisi e il momento di crisi spesso e volentieri è rappresentato da una situazione classica che provo a riproporvi, cioè lei seduta in un angolino del letto, detto anche l'angolino della crisi, così e lui arriva da dietro e fa ma che cos'hai? e lei risponde no, niente, come niente, stai tutta così mogia mogia, dimmi che cos'hai? niente, dai non sei mai stata così, non mi prendere in giro, dimmi che cos'hai? niente, ho detto niente, niente, si arrabbia pure, allora tu dici vabbè se non c'è niente non c'è niente e te ne vai e mentre tu te ne vai lei ti dice e anche se ci avessi avuto qualcosa di certo tu non avresti capito, allora tu dici ma allora spiegamolo poi vediamo se non capisco, no è inutile tanto tu non capiresti, ma spiegamolo poi vediamo se non capisco, se tu me la spieghi bene io poi capisco, spiegamolo, no è inutile tanto tu non capiresti, spiegalo e lei ti dice va bene te lo spiego però non te ne vieni, ti ricordi quando siamo andati dalla notte e io pensavo poter soltanto nei film e invece senti scusa, ti devo dire una cosa, non ho capito, eccolo vedi? non mi capisci, non mi capisci, allora tu di fronte a questa situazione hai due possibilità di reazione, la prima è quella tecnica, quella classica da uomo tecnico che risponde e dice guarda mi sa che non ha pagato Skype, tiè prova la carta mia che te la passo tra i chiappe riprova e magari con la mia prende meglio oppure quella quella di abbassarsi al suo livello e parlare come lei allora prima te te devo dire cosa? tu o te e te già che ci siamo te la te e la sorella in Zidane ma devi scegliere c'è da dire un'altra cosa che quando la comunicazione verbale non ha più uno scopo, non funziona si passa ad un altro tipo di comunicazione che è quella tattile, quella dei movimenti, quella dei gesti e quando il gesto, il movimento è quello che tutti conoscono il gesto della carezza, dell'abbraccio, del movimento della coscia, controcoscia, dello sfregamento del movimento pelvico, ecco nascono dei bambini e quando nasce un bambino ti devi prendere le tue responsabilità e insegnargli la differenza che c'è tra il bene e il male quindi qual è il miglior modo se non le favole dove il bene e il male spesso viene rappresentato addirittura dai protagonisti delle favole, il mago, la fata, il principe, l'orco, il drago, la carrozza, il mago, la zozza quindi questa canzone non è dedicata tanto ai bambini ma a una delle favolette più raccontate al mondo ai bambini Nonna, che collo grande che hai? Nonna, che bocca grande che hai? Nonna, che occhi grandi che hai? Capucetto staccaca! Un bambino è notorio che decentra completamente l'attenzione della coppia Prima la coppia eravate soltanto tu e lei, tu tornavi a casa e facevi Amore, dove sei? E lei ti diceva Sono qui, sto lavando i piatti Stai lavando i piatti? Vuoi sentire il mastro lindo senza orecchini? La coppia era fatta così prima del bambino, si sa, eravate tu e lei, giocavate, qualsiasi ponte era buono per unirsi Quando invece, come dire, nasce un bambino, le cose cambiano, tu torni a casa e fai Amore? Dove sei? Novi da un po'! Staccami il pupo! Eh, ma dove? Eh! Segui le tracce del vomito, la pastina incrostata giri a destra quando senti Puzza e merda, guardia, sta arrivato! Purtroppo, no, ve lo devo dire, ve lo devo dire, per esperienza Quando... Ve lo devo dire, quando nasce un bambino, sparisce mastro lindo e arriva mastro geppetto che a seghe ne sa qualcosa Ecco, e il bambino è anche un catalizzatore di commenti, di attenzione, di pareri da parte di tutti Di suoceri, inquilini, coinquilini, inquilini nel piano dei fronti, portinai, amministratori di condominio Tutti si sentono in diritto di interpretare un pianto di un bambino Il bambino piange e tutti dicono, è perché vuole la mamma, no, è perché vuole il ciuccio, no, è perché c'ha caldo, no, è perché deve essere messo all'ombra, no, è perché sta spuntando il dentino, no, perché c'ha sonno, no, perché ha fatto pipì, no, perché deve essere cambiato, no, perché c'ha da fastidio il pandolino, no, perché deve avere meno coperte addosso, no, perché... La posizione gli fa male alla testa, no, perché gli fa venire la cosa, no, perché c'ha la colite, no, perché ha fatto... È un po' come quando tu vai al mare, esci dall'acqua del mare e ti ha punto pizzicato la medusa e allora dici, ah, ma punto la medusa e tutti si sentono in diritto di dirti la propria soluzione Metteci l'acqua raggia, no, metteci l'acqua di mare, no, metteci l'acqua frizzante, no, metteci la cibaggina, no, metteci l'olio, no, il limone, no, metteci la crema, no, metteci la sabbia, no, grattalo, no, metteci la sottolomba, no, lasciala al sole, no, metteci la benzina, no, metteci la l'oranzoda, no, la sprite, no, metteci l'ammoniaca, no, metteci la citrosodina, no, metteci la tintura di odio, no, che non arriva uno e ti fa, oh, pisciace sopra, e tu rispondi, ah, grazie, almeno quella ce l'ho, però, però è che la medusa mi ha pizzicato proprio qua a saperlo, ma la medusa gli dicevo, mi potevi pizzicare sul ginocchio, che, porca miseria, ma come faccio, aspetta, deve essere, ma un metodo ce deve essere, aspetta, ma fammi ci pensare, allora, se io faccio, se io, guarda, se vuoi io posso, no, guarda, mi è passato, mi è passato, non mi fa più male, e la spiaggia non è altro uno di quei posti dove hai la possibilità di guardarti intorno e di vedere delle possibili alternative alla tua di coppia, e così è capitato a me, lei mi ha tradito e tutte le volte che mi tradiva, allora io le cantavo questa canzone. Mi hai tradito col macellaio, mi hai tradito con l'ortolano, mi hai tradito col frutti in vento, mi hai tradito col salumiere, mi hai tradito con il vinaio, mi hai tradito col panettiere, la prossima volta la spesa la faccio io. Applaudire, cantare in coro, ecco, questa potrebbe essere, allora, per cantare in coro è facile, allora, una canzone questa molto facile da cantare, non so se avete presente quelle donne, e quegli uomini, insomma, quelle coppie in cui esistono delle frasi fatte, frasi di repertorio, in cui lei dice, o lui dice, ti lascio perché ti amo troppo, ti voglio bene come un fratello, non sento più le stesse cose che sentivo prima, ah, Franca c'aveva solo due biglietti per charme e shake, come faccio a lasciarla sola in un momento così, che gli hanno disdetto la ceretta, come faccio? Non si può lasciare Franca in un momento del genere e quindi devo andare con le... Insomma, sono frasi che si passano, si tramandano di madre in figlia, in figlia in cugina, in cugina in vicina di casa e così via, e tutte queste frasi non hanno mai avuto una degna risposta di repertorio, io spero che questa risposta possa entrare presto nel repertorio di tutti noi, la risposta a frasi di repertorio stessa, la risposta è questa qua, tre quarti della Palazzina Duà, il coro da fare è molto semplice, è questo qua. Proviamo solo voi, vai. One, two, three, pa. Senti, vediamo se ci stanno dei sorci più intonati qua, dai, proviamo, giriamo le case e facciamo... Eh, perché non cantano? Che cazzo avete firmato qua, scusate? Tuttu ruttutua, tuttu ruttutua, tua, è semplice, allora le parole sono tuttu, tuttu, è come quando il telefono è occupato, tuttu, è semplice, tuttu ruttutu, è quando l'hai presa troppa del birra e bollicine cross, tua e tua, come ho potuto dire, è capito. Quindi è più semplice di quanto potete immaginare, tuttu ruttutua, proviamo. Un, tu, tre, bo, tuttu ruttutua. Abbiamo finito, i fuochi d'artificio erano meglio, richiamar sindaco, che cazzo sta da fare? È un concerto rock, yeah! Yeah! Eh che cazzo, vai! Tuttu tutua, oh, un, due, tre, bo, tuttu ruttutu. Sautela! 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 Bravissimi! Davanti è ok, dietro anche affanculo potete andare, non ci servite, ve lo dico, non ci servite, va bene? Allora, la canzone può cominciare. Per tutte quelle frasi che non hanno senso, faccio che ti amo troppo, per tutte quelle frasi che ti fanno senso, mi so più bene come un fratello. Per tutte quelle frasi che, non ti merito, un giorno hai detto pure te, devo prima ritrovare me stessa, lo capisci? Per tutte quelle frasi tipo, mi devo prendere un momento per rinfrappare, per tutte quelle manedette ragazze specchio. Secondo me l'amore finisce, invece l'amicizia dura tutta la vita! Ma se non ti guarda, non ti prendi appuntando dall'aria! Cioè, c'è sui 5 minuti... Ma per il danno, te la fai culo! Eeeh! 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 Amico di che? Amico non è? Se mi sono innamorato Amico perchè? Amico dov'è? Se tu ti sei innamorato Io ti ho regalato un anello d'oro con cusciro e forma di guarda scritto sei il massimo Ti ho regalato una cascetta con le mie derivazioni d'amore Mi hai messo sul bruscotto e sei sbagliata nel sole Mi hai mandato un messaggio dove mi dicevi che mi volevi tanto bene Non ho mai spiegato di quel bene che intendevi tu non ero stesso bene Ma come quanti sono? Sono due, uno è l'amore che finisce Quanto è l'amicizia? Ma per ingannate la bambu lo vedete E tre quarti dalla balancina 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 Ma questo è un segno di te Oun? Papa! Che t'è successo? M'hai sbagliato Fabio? Ma non… non… non se lo ho sbagliato Non capita mai Fabio Perché? E' una sera d'arcelà Che t'è successo Fabio? Scusa ma….. non è meglio… chuoni sempre benissimo, sei un mostro la chitarra Mi sono rovinato la serata prima del concerto E perché? Mi hanno fatto una cosa Che gli avete fatto? Niente Che gli avete fatto? Dimmelo Te li fanno io Fabio, dimmi a me, ci penso io Li corco Li corco uno per uno A cominciare da lui che mi stanco di meno perché è più basso Vai, vai, dimmelo Dimmelo, io li corco, parto Parto un quinta, vai A che mi è arrivato un messaggio sul telefono Ah, lo sapevo, è lui Manda i messaggi, manda le catene di Sant'Antonio Per ricaricarsi il telefono, c'ha la San Anthony Card Ma guarda, dove hai comprato, voglio sapere, guarda No, no, stavolta è un solito Mi sa che non è... Sì, sperai, la San Anthony Card ce l'hai No, no, dì, glielo fanno No, stavolta, ieri mi hanno fatto Ma oggi è una cosa No, c'è andato qualcosa No, una cosa più brutta, a partì scherzi Lasciamo perdere Più brutta della San Anthony Card? Che ci puoi stare? Un messaggio bruttissimo Come pensare? La San Anthony Card ci può essere... Che ne so, se non mi ricarichi il telefono... Peggio Peggio Avvicinati, se? Dai, un messaggio dalla ragazza Dai, una cosa un po' personale Non so se è il caso adesso Scusa, scusa Andate via Dai, ci parlo io Ci parlo io, ci parlo io Ci parlo io Ciao Fabio Ti posso dire una cosa? Cioè Adesso io non voglio dire Non voglio fare quello che poi dice Che alla fine Cioè, le donne Tu non è che la devi... Tu prendila e lasciala Che poi Alla fine lei sarà all'altra E dire Ah, ma... Così tu infila la Che merda? E quando... E basta E basta No, è là che devi Allora la teni mai E lì dice E no Così, allora è rusica E lì devi fare Poi la metti sotto Quando sembra Così la manetti Così E te ne vai E lei dice Ah, 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 ah 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 Poi, ah, che è Così, aspetti Ah, ah, ah Ah, capito? Fammi leggere il messaggio Fammi leggere il messaggio Come leggere il messaggio Come si fa a leggere il messaggio qua? Come... Dove tu? Che devo fare? Prima da qua Menù Menù poi messaggi Dai Menù? Menù Menù Come faccio ad andare sul menù? Scusa, qui c'è la foto Di tua madre nuda Toglila No, ma mica mia madre questa È spazzita? E perché non ce l'ho io questa? Io non te l'ho mandata Mi sono dimenticato Eh, scusa Questa a me mi piace È sulla neve È fia, hai visto che fia che è? Sulla neve È fortissima Bella, mi manca Sulla neve Sulla neve Sulla neve Mò me la mando Sulla neve mi mancava Poi col negro dietro È fantastica Che fa contrasto E si vede Bellissimo È bello Ah, ecco, ecco i messaggi Ecco i messaggi Allora, dice Caro Fabio Ci dobbiamo lasciare Non sento più le stesse cose Che sentivo prima Spero so Che Che è? Spero Tutto abbreviato Abbreviativo E ora si usa Con gli abbreviativi? Eh Spero e spero Solo Spero solo Che Che P P Possiamo Dai, questo Lo sanno tutti Sì, sì P P Possiamo P Possiamo P P P Leggi P Possiamo P Possiamo P Possiamo R R Dai, facile R R R R R Manere R R R R Eh, questo Questa è la chiave di tutto Che cazzo Spero solo Che possiamo Rimanere Questo è brucio? Questo non lo posso sopportare, dai, non ci riesco nemmeno a dirlo. Fammi capire, così io amrò, capisco io. Vabbè, amici. Brucia! Scotta! Scotta brucia! müssen wir uns mit demامenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenei. Gaaaaaaah! Gerronghr! VersWAY dotatitt AND에다�enenenENENENENeneenenenenenenenenenenenenenenseeth! Esci da questo porto, одно messaggio diverso! Errongh ward! Onouneenen 엉덩. il potere di materazzi di espelle amici 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 chiamano altro amici 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 c'è con altro amici 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 chiamano altro amici 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 c'è con altro amici 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 chiamano altro amici 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 c'è con altro amici amici chiamano altro amici amici c'è con altro come la chiamo io ce penso io pronto chi è la ragazza di Fabio? ciao ci avremo una cosa da dire ma tutti insieme tutti insieme forte 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 ma vedi la nante la fa culo vede e tre quarti da palazzina du tu 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 tua 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 Cerrone, ma vedi me, ma ce l'ho la solo te Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501